Buonasera, buonasera, grazie mille di essere intervenuti a questo webinar organizzato con lo studio Trevisano Inconso e da Legal Community e Full Community, From Farm to Fork, i nuovi scenari della filiera agroalimentare italiana. Grazie ovviamente a tutti voi, a tutti i relatori, ma allo studio Trevisano Inconso, che è il nostro partner, a Gabriele Ponzo, a Vincenzo Acquafredda, che sono qua collegati con noi. Abbiamo avuto più di 200 registrazioni, quindi siamo molto contenti di questo, speriamo di poter riavere tutti con noi fino alla fine. Io adesso per evitare che il numero inizi a scendere, lascio subito la parola a Francesca Corradi e vi saluto e vi ringrazio per rivedere i nostri webinar. Grazie. Grazie Aldo. Don Chi è il benvenuto a tutte le persone collegate a questo webinar. sui nuovi scenari della filiera agroalimentare italiana, dove andremo a parlare di come è cambiata la filiera durante questa emergenza sanitaria e quali sono le nuove prospettive. Prima di entrare nel vivo della discussione, presenterei però in ordine alfabetico i relatori che interverranno oggi. Quindi do il benvenuto e ringrazio Vincenzo Acquafredda, partner di Trevisano Inconso. Michele Andriani, presidente di Andriani S.P.A. Buonasera. Gabriele Ponzo, managing partner di Trevisano Inconso. Riccardo Felicetti, CEO di Pastificio Felicetti. Buonasera. E Maurizio Zanella, presidente di Cade il Bosco. Buongiorno a tutti. Mi rivolgo agli ascoltatori a cui ricordo che c'è una sezione che si chiama Q&A Section. Se ci sono domande indicate per chi sono nello specifico, proveremo a rispondere a valle degli interventi dei nostri relatori o alla fine del webinar. A questo punto lascerei la parola all'avvocato Gabriel Ponzo, managing partner di Trevisano Inconso, che ci introdurrà alcuni temi che andremo ad affrontare oggi. E quindi, cosa ha determinato questa emergenza? Quali sono state le criticità? E cosa si dovrebbe fare per affrontare in maniera strutturale questo cambiamento? A lei la parola. Grazie, grazie mille. Grazie a Liga Community per questa occasione. Noi siamo lietissimi di poter, diciamo, di sponsorizzare questo evento e io personalmente sono molto lieto di rincontrare il dottore Andriani e di incontrare per la prima volta il dottor Felicetti e il dottor Zanella, che sono delle nuove conoscenze, ma immagino, speriamo di poterci vedere di nuovo in altri contesti, magari fisici, perché io devo confessare che mi piacciono molto questi webinar, eccetera, però alla fine è molto meglio il contatto fisico. Però, davvero, abbiamo pensato, come studio naturalmente, di che fosse opportuno fare una riflessione proprio su questo tema qui, sull'importanza della, chiamiamola dell'agribusiness, ma in un'eccezione molto molto ampia. Forse c'è stato in queste settimane di lockdown, e questo è un qualcosa che penso sia veramente un sentimento comune, non soltanto degli italiani, credo che sia una cosa globale, c'è stato come un ritorno alle cose essenziali, proprio un ritorno alla semplicità, ricorda, qualcuno diceva di tutto, Riccardo Felicetti parlava della pasta, non dell'incremento del consumo di pasta, immagino, noi abbiamo consumato tantissimo vino, e cantantissimo cade il bosco, che è una cosa fantastica, tantissimo, davvero. Quindi, c'è stato un ritorno alle cose essenziali, il pane, la pasta, il vino. E poi qualcuno si è accorto, e i nostri tre giornali un po' hanno riferito, da un lato un grande successo, un boom dei consumi, qui si contrapponeva una grande preoccupazione, però, anche delle imprese, del settore, di tutta la filiera, dagli agricoltori fino anche ai produttori, perché succedevano essenzialmente due cose, da un lato c'era un blocco, c'è stato un rallentamento delle importazioni, una diminuzione delle quantità di prodotti primari importati, in particolare grano, anche le lenticchie, che sono fondamentalmente... No, l'italiani è un grande esperto, poi si dirà che il 90% delle lenticchie vengono importate. Quindi, da un lato il lockdown globale ha provocato un rallentamento delle importazioni, dall'altro, naturalmente, non si è più trovata la forza al lavoro, perché c'è stato un blocco, anche un fortissimo rallentamento, ma è di fatto un complocco della forza al lavoro che è tutta immigrata, quasi tutta immigrata in Italia. E quindi, che cosa ci dice questa esperienza? Io sto facendo discorso economico, non giuridico, e quindi non chiedo scusa delle sciocchezze che potrò dire, ma se facciamo una visione così dall'alto, aerea, di questa situazione che si è creata, vediamo che l'Italia ha bisogno di ritornare a pensare all'agricoltura e alle sue attività, alle sue industrie primarie, inclusa quella vinicola, naturalmente, in maniera diversa, in maniera diversa da finora e da adesso. Noi abbiamo delle imprese fantastiche, che sono caratterizzate da dimensioni ancora forse troppo piccole, e c'è un uso molto interessante anche nel sud Italia, o dovrei dire anche nel sud Italia. Infatti, il dottor Andriani è un testimone di questo, ma immagino che parleremo di questo in dettaglio. C'è bisogno di un... l'industria che abbiamo usa la tecnologia. Usa la tecnologia ma in maniera molto individuale, cioè sono esperimenti che vengono fatti dalle imprese, a volte anche in cooperazione con istituzioni, per esempio le università, a volte con l'aiuto anche delle regioni. Però sono tutte cose che vengono fatte attraverso delle iniziative di persone individuali. Dal punto di vista, invece, di... non c'è una regia, non sembra che ci sia una regia dello Stato, per esempio, dei ministeri. Quando invece... e questa epidemia è stata quindi, dal nostro punto di vista, un grande acceleratore, cioè ha creato una... ha creato una grande focalizzazione su questo tema, su questi temi qui. E ha fatto vedere che, in effetti, dobbiamo concentrarci su queste cose. Quando parliamo di tecnologia applicata al settore agribusiness, di cosa parliamo? Parliamo essenzialmente... se parliamo di agricoltura, parliamo essenzialmente di due cose. Parliamo della cosiddetta agricoltura di precisione. c'è le nuove tecnologie che servono a... sono strumentazioni, strumentazioni di carattere naturalmente digitale, informatico, cioè che servono a migliorare la possibilità di coltivazione, quindi dare, per esempio, dati sui meteo. Il meteo è una parte della... il meteo di alta precisione è un elemento dell'agricoltura di precisione, così come sono le relazioni chimiche dei terreni. questo da una parte c'è l'agricoltura di precisione, dall'altra c'è il grande tema delle variette vegetali, quindi del miglioramento delle specie vegetali, che può essere ottenuto in maniera naturale, in maniera biologica, senza alterazioni che sono state criticate nel passato. E questo... queste cose, per esempio, su queste cose non c'è una grande riflessione, anche se le imprese le conoscono molto bene. E quindi il... quello che noi pensiamo si dovrebbe fare è che una riflessione su questo tema integrata. Ecco perché. Allora, noi siamo uno studio legale. Perché ci occupiamo di queste cose? Ci occupiamo di queste cose perché abbiamo una piccola visione anche dall'alto di queste cose. ma evidentemente crediamo che tutto... anche le imprese oggi debbano farsi portatrici di questo genere, di nuove istanze che sono... che sono... che sono di fondo sostanzialmente politiche. Sarebbero riservate alla politica, ma siccome la politica in questo momento, con tutto quello che possiamo pensare di bene o di male, dell'attuale... degli ultimi governi che sono seduti, è un pochino assente e crediamo che si debba dare un contributo. E quindi questo è un pochino il quadro nostro. Naturalmente quando parliamo di agricoltura di precisione, parliamo di tecnologia, ci sono un sacco di questioni di carattere giuridico e infatti il mio socio Vincenzo Cofredda, che di fatto è una persona che all'interno dello studio si occupa di queste cose, che le ha lanciate, le sta sviluppando, ci parlerà poi a suo tempo degli aspetti, diciamo, che il tecnico-giuridico ha soltanto conosciuto. Il quadro di riferimento, il motivo per cui noi ci occupiamo di queste cose, abbiamo deciso di sponsorizzare questa bella iniziativa è proprio questa necessità che noi sentiamo anche dei cittadini di aprire una riflessione interdisciplinare anche con le imprese, anche con la scelta civile e anche con la politica, perché no, su questi temi, che sono essenzialmente temi di politica economica. Io direi che queste sono le cose che volevo dire e quindi lascio volentieri la parola a chi è molto più competente di me potrà dire qualcosa di utile. Grazie mille. Bene, ringraziamo l'Avvocato Conso e direi, dopo questa preziosa introduzione al tema, chiederei a Michele Andriani, presidente appunto di Andriana S.P.A., come ha vissuto il lockdown sia da imprenditore, alla guida appunto di un'azienda che ricordiamo essere specializzati in quelli che sono i prodotti premium, naturalmente gluten free e prevalentemente bio e anche un commento generale sulla ferriera agroalimentare rispetto appunto a come si è comportata. Buonasera a tutti, grazie ancora a Food Community, a Legal Community per aver organizzato questo evento e allo studio Travisano e Conso che da tempo, direi da anni, lo trovo sempre sponsor in una serie di iniziative di coinvolgimento, di una parte attiva della società, quindi cercare di unire quella che è la formazione, l'informazione, ma anche ponendo al centro l'uditore principale che quindi è la società stessa, quindi ancora complimenti allo studio. Da un punto di vista personale abbiamo vissuto l'inizio di questa tragedia pandemica con molta preoccupazione, soprattutto perché il ruolo che ci veniva assegnato erano imprenditori nel mondo della fila agroalimentare, era un ruolo essenziale, dovevamo garantire all'Italia, quindi a noi stessi, ma a tutto il resto del mondo, anche il Presidente Felicetti ne può essere testimone in rappresentanza di un prodotto iconico come quello della pasta, quindi dovevamo garantire a tutto il resto del mondo quella serenità che a scaffale doveva presentare i nostri prodotti sempre ben posti e soprattutto in disponibilità a sostegno di quella che era una domanda che ahimè in maniera imprevista è schizzata. Ricordiamoci che per l'agroalimentare, soprattutto per il settore dei cereali, abbiamo visto in alcuni casi raddoppiare la domanda. Questo vi fa capire bene che non c'era la disponibilità di un'offerta doppia e soprattutto le aziende non erano preparate quindi a poter offrire e soddisfare la domanda. Da un punto di vista imprenditoriale c'era molta tensione, molta fatica, c'erano veramente stanchi ma c'era anche la preoccupazione personale di come le coste sarebbero dovute andare sia da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Abbiamo vissuto con molta serietà invece anche la fase che riguarda il nostro impegno principale quindi quello di fare filiera. Personalmente ho riscoperto il valore di confrontarvi con il consumatore quindi abbiamo letto con molta più umiltà quelle che erano le richieste del consumatore e le vere esigenze cogliendo appunto nel nostro paese l'esigenza del consumatore che ormai è sempre più confermata anche dei dati di avere prodotti a scaffale completamente medinitili pertanto la responsabilità imprenditoriale anche della nostra azienda è stata quella di confrontarsi con questa richiesta e cercare di capire come soddisfarla all'interno della filiera agriamentare ricordiamoci che c'è una parte importantissima che è la parte agronomica quindi è la parte della produzione primaria abbiamo dovuto accelerare quello che era un percorso delle nostre aziende quindi di cercare di approvvigionarsi sempre di più di un prodotto italiano quindi ascoltando quello che era l'esigenza del consumatore e all'interno di questi mesi tra l'altro di lockdown e smart working abbiamo consapevolmente e ripeto con molta serietà affrontato il tema cercando di non fare false promesse al consumatore perché dobbiamo assumere un ruolo di promotore a volte di alcune tendenze ma dobbiamo allo stesso tempo cercare di promettere quello che possiamo mantenere nel caso vi faccio un esempio parlando di legumi così come benissimo anticipava prima per sorponso l'Italia ad esempio parliamo della lenticchia un legume abbastanza noto a tutti quanti l'Italia consuma 44 mila 44 mila tonnellate di lenticchia ne produce solamente 6 quindi siamo all'incirca al 10% del fabbisogno a livello globale si producono 4 milioni e mezzo di lenticchie e i paesi esportatori India Australia Canada hanno iniziato ad aumentare i loro consumi interni facendo sì che gli stock quindi quella disponibilità di materia prima che dovrebbe essere messa a disposizione degli italiani venisse meno tant'è che l'India quest'anno è diventata consumatrice di legumi anch'essa quindi è importatrice di legumi anch'essa questo vi fa capire che non ci sarà disponibilità di questo prodotto molto probabilmente nei prossimi anni e qui chiaramente la necessità di dover cercare di iniziare a sensibilizzare la parte agricola in questo imprenditore agricolo che ha con sé la responsabilità oggi di dare una mano all'industria processatori e al driver finale quindi al distributore di unire domande e offerte in maniera da creare una sorta di comunità locale di consumo in questo caso tra l'altro anche consapevole perché le potine vegetali fanno parte di un consumo più consapevole però qua tutto questo non è facile bisogna essere al centro in un processo molto complesso fatto con serietà e così come presumo debba essere affrontato oggi ci sono anche gli strumenti di corretta comunicazione di trasparenza del consumatore bene durante il lockdown la nostra azienda ha accelerato questo percorso ha capito che il ruolo è ancora più importante rispetto a quello di prima abbiamo in maniera virtuosa iniziato dei processi interni di formazione in maniera tale da farci trovare pronti e all'altezza del ruolo non appena questo possa essere si renda necessario ottimo ottimo un'ottima sintesi diciamo di che cosa è successo ringraziamo il dottor Andriani e passiamo nello specifico alla filiera della pasta con Riccardo Felicetti a cui chiederei non solo un commento in qualità di CEO del pastificio Felicetti ma anche come presidente dei pastai italiani di Unione Italiana Food e a Felicetti domando cos'è successo in queste settimane cos'è cambiato c'è qualcuno che ha speculato quali sono state le vostre scelte Allora io direi che ha cambiato il mondo è cambiato il mondo e ci siamo trovati a dover reagire in maniera molto rapida molto attenta e molto coscienziosa a un mondo che stava cambiando radicalmente innanzitutto devo dire che la pasta essendo un alimento mondiale globale ha cominciato a risentire delle problematiche derivanti da Covid molto prima che arrivassero in Italia perché le prime richieste di copertura sono iniziate innanzitutto dalla Cina poi dal Giappone poi da Hong Kong per poi spostarsi in maniera piuttosto incredibile negli Stati Uniti in effetti la prima notizia che ci è arrivata 16 gennaio un protocollo di reazione al al Covid dal Texas da una catena della grande distribuzione texana che ci chiedeva di prendere delle precauzioni perché loro abituati a SARS abituati a sciagure climatiche non indifferenti come Catrina e altre cose avevano comunque messo in atto una serie di provvedimenti non indifferenti per riuscire a reagire anzi ad agire in preventivo su quello che avrebbe potuto succedere in occasione di lockdown o di chiusura di determinati territori però l'abbiamo sottovalutato l'abbiamo sottovalutato noi probabilmente l'ha sottovalutato anche altri che ci amministrano fatto sta che dal 23 di febbraio in avanti invece in maniera molto seria e responsabile abbiamo cominciato ad operare per fare in modo di non trovarci impreparati ammetto che a titolo personale sono rientrato dagli Stati Uniti il 6 di marzo che era un venerdì se non erro il 7 marzo a mezzanotte mi sono trovato davanti a una conferenza stampa oppure una dichiarazione a rete unificata del Presidente del Consiglio e di là non ho più dormito perché è chiaro che quando ti senti responsabile di un'attività importante per la pace sociale ti senti responsabile di un nucleo familiare molto molto grande per quanto riguarda la nostra comunità che è di 5.000 anime e hai 100 famiglie che operano all'interno della tua filiera non riesci a capire dalle notizie che ti sono arrivate se la mattina dopo avresti potuto continuare a lavorare chi fa parte della tua filiera se i tuoi trasportatori continueranno a lavorare se il 70% del tuo mercato che è il mercato mondiale parlo di Felicetti ma se il 55% del mercato della pasta potrà continuare ad essere rifornito se le materie prima in arrivo continueranno a poter arrivare oppure se i tuoi fornitori decideranno di non toccare il suolo italiano perché potrebbero rimanere bloccati loro le navi camion eccetera da 14 giorni di quarantena insomma abbiamo viaggiato a tutta velocità al buio senza una strada che non conoscevamo e con qualcuno che ogni tanto tirava pure dei sassi per impedirci di essere sereni serenità che deriva da tanti fattori serenità era quella di mettere in sicurezza la filiera di consegna la pasta sicuramente è un prodotto fortunato perché buona parte della materia prima il 70% viene dall'Italia buona parte era già stoccata però pensate che stiamo andando verso una congiunzione agricola con il nuovo raccolto nuovo raccolto che purtroppo non sembra essere fantastico altrettanto abbiamo avuto dei problemi perché raddoppiando quasi i volumi nel mese di marzo aprile maggio e probabilmente aumentando anche giugno ci troveremo a non riuscire ad andare in congiunzione per cui andremo sul mercato ci sono dei fenomeni di ritenzione di mercato c'è chi li chiama speculazione ma forse è un po' troppo banale come termine però un po' di ritenzione sul mercato per veicolarlo e orientarlo da qualche parte quello sì c'è stato di questo ci siamo preoccupati in tanti di questi ci sono preoccupati non soltanto le associazioni di categoria della filiera per cui partendo dagli agricoltori arrivando fino a centromarca ma anche a livello ministeriale c'è stata qualche preoccupazione proprio per cercare di limitare al massimo questi fenomeni di ritenzione detto questo siamo stati fortunati siamo stati fortunati perché siamo riusciti a livello di aziende a costruire delle barriere di protezione attorno alle imprese che hanno consentito a tutte le filiere di rimanere attive e operative qualcuno ha ridotto la produzione qualcuno invece ha mantenuto in atto la produzione altri hanno addirittura acceso degli impianti che erano in quel momento non in funzione per cui devo dire che la reazione della mia categoria è stata estremamente virtuosa molto responsabile e speriamo continui ancora anche nel prossimo futuro perché non siamo ancora fuori di sicuro se non dalla crisi medica di sicuro non dalla pandemia mentale che ha portato molto spesso a reazioni isteriche un po' in Italia poco ma molto di più all'estero bene grazie dottor Felicetti di questo interessante quadro sul settore della pasta che rappresenta procederei con Maurizio Zanella presidente di Cadelbosco a cui chiedo di raccontarci come ha reagito a questa crisi il mondo vitivinicolo e in particolare l'azienda Cadelbosco buongiorno innanzitutto mi scuso perché qui si vede la mia origine contadina perché sono l'unico senza cravatta e me ne scuso ma come ha reagito il mondo vitivinicolo si divide a mio modesto parere in due grandi famiglie quello del vino commodity e quello del vino nobile sul vino commodity non ne parlo perché ho la minima esperienza essendo contadino anche se contadino è voluto conosco più il settore del vino nobile che ha fondamentali completamente diversi dai vini che hanno un utilizzo quotidiano e banale non banale come consumo perché hanno la loro logica e la loro realtà di esistenza e ce ne mancherebbe ma è un mercato completamente diverso il vino nobile è quello legato al territorio ed è quello con la filiera molto corta dove spesso il contadino produce l'uva la trasforma e la commercializza quindi a filiera normalmente molto breve per mantenere degli standard estremamente elevati il vino è stato questa seconda famiglia è stato pesantemente penalizzato per il semplice motivo che le vendite sono sviluppate per più del 50% nell'oreca e quindi essendo l'oreca chiusa in tutto il mondo e non una scelta come dire volontaria ma una scelta obbligata ci siamo trovati con a seconda delle varie tipologie di aziende dal 60 al 90% di senza clienti lei capisce bene che in termini di fatturati e di esistenza molte aziende sono in grandissima difficoltà perché invece i costi non si possono fermare perché la campagna non si ferma e quindi i costi di gestione delle vigne procede i costi dei vini delle precedenti annate non si fermano e quindi tutta la macchina doveva girare senza evidentemente dei flussi finanziari molto complessi per cui come abbiamo vissuto questa crisi a livello personale vi può sembrare paradossale io l'ho vissuta benissimo penso di aver vissuto i tre mesi più belli della mia vita perché sono tornato a fare quello che amavo e che non facevo più nel senso che sono tornato ad andare in vigna sono tornato ad andare in cantina a degustare a fare quelle cose che ormai facevo solo santuariamente una o due volte all'anno che erano invece quelle che hanno mosso la nascita di Cadelbosco con una differenza che quando le facevo 40 anni fa avevo paura di sbagliare perché era un modello nuovo quindi con situazioni assolutamente innovative per l'epoca mentre adesso c'entravo con la sicurezza un pelo di orgoglio di aver fatto 30 anni o 40 anni prima le scelte giuste e quindi mi divertivo andare in vigna o in cantina e non ne ero preoccupato sul mercato invece come dicevamo prima grandissime difficoltà perché Cadelbosco forse è una delle aziende più esposte e ne è felice e ne è orgogliosa sull'oreca e meno sulle vendite ad asporti e quindi abbiamo avuto dei cali abbastanza importanti stimo che se andrà bene chiuderemo il 2020 con minimo tra il 28 e il 35% di fatturati inferiori ma bisogna bisogna tenere i nervi saldi credo che le crisi passano ma i valori restano cioè non vogliamo assolutamente cambiare rotta abbiamo visto molte aziende fare cose diverse innovarsi a livello commerciale fare cose che non erano abituate a fare e credo che si facciano degli errori quando si cerca di recuperare in maniera senza esperienza in canali nuovi quindi penso che la coerenza nel nostro mondo vincerà la calma vincerà e essere coerente ai propri valori sarà fondamentale dallo Stato ci aspettiamo poco perché abbiamo visto e non ne faccio un discorso politico ma di efficienza sull'agricoltura veramente molta impreparazione molta superficialità non parliamo sull'oreca l'oreca secondo me è stato il settore distrattato in maniera vergognosa perché quando tutti dicevano e pronosticavano l'apertura 2 giugno sabato scorso a mezzanotte è stato detto a questa categoria che lunedì aprivano senza regole per cui una cosa vergognosa lo Stato italiano non si è reso conto che nel nostro paese il turismo l'enogastronomia sono un fattore forse non importante a livello di PIL ma fondamentale sul turismo fondamentale perché il secondo motivo per cui uno straniero visita l'Italia è questo e per farvi un esempio che tutti voi ben conoscete abbiamo stanziato 2 miliardi su questo settore contro i 18 della Francia la dice già lunga questo e la ristorazione è grave veramente in grave pericolo e quindi siamo molto preoccupati perché il problema non è finito con la riapertura di lunedì scorso ma credo durerà qualche mese per ridare un equilibrio una serenità a un settore che per noi è fondamentale in cantina e nei vigneti come vi dicevo abbiamo continuato a lavorare dobbiamo aspettare abbiamo fatto delle iniziative per cercare di agevolare chi faceva si è tirato su le mani che faceva la sport o il take away abbiamo fatto un'applicazione per trovare i punti che facevano vicino a casa dell'utente i punti ovviamente che avevano cadere il bosco che davano un servizio ma più di questo non abbiamo potuto fare se non come dire sperare che questa ripresa sia gestita un pelo meglio dalle istituzioni e che dia all'oreca dei segnali diversi da quelli che ha dato bene bene grazie concluderei diciamo questo primo giro di interventi con Vincenzo Acquafredda partner di Trevisan in Conso e avvocato quali sono i punti di forza e le criticità che sono emerse durante questo lockdown e poi come sono cambiati ad esempio gli equilibri e i rapporti tra agricoltura e grande distribuzione organizzata grazie Francesca grazie ancora a Legal Community a Food Community per l'invito e l'organizzazione di questo webinar e ovviamente grazie anche agli altri partecipanti che ci onorano dalla loro presenza il nostro punto di vista il nostro punto di vista è il punto di vista di chi in realtà in questo periodo lungo travagliato di lockdown ha seguito imprenditori dell'agroalimentare è un punto di vista che sostanzialmente porta a condividere tutto quello che già abbiamo sentito e mi porta personalmente a fare qualche considerazione in più evidenziando che diciamo questo lockdown soprattutto nell'ambito dell'agroalimentare possiamo dire ha avuto un vero e proprio effetto di accelerazione cioè immediatamente sono diventati cogenti sono diventati urgenti degli obiettivi che fino all'altro ieri in buona sostanza erano obiettivi di medio lungo periodo erano soltanto obiettivi programmatici diceva il dottor Felicetti che è cambiato il mondo certo è cambiato il mondo nel senso che sono cambiati gli acquisti sono cambiate proprio le abitudini dei consumatori ed è proprio questo il punto di partenza il punto di partenza che ci deve far capire diciamo quali sono i problemi e sostanzialmente come li possiamo affrontare perché essendo cambiati i consumi essendo cambiate le abitudini di acquisto sostanzialmente sono diventati importanti diciamo i rapporti i rapporti tra la grande distribuzione e la filiera produttiva in buona sostanza perché sono cambiate le dinamiche sono cambiati un po' i modelli se posso dire la grande distribuzione adesso è auspicabilmente sempre di più deve concentrarsi più sulla qualità che sulle politiche di prezzo la grande distribuzione è costretta adesso a ribalutare nuove gambe di prodotti in buona sostanza quindi prodotti funzionali prodotti diciamo così più nutrienti se vogliamo quindi prodotti anche basici tutto sommato questo è un primo effetto un altro effetto importante che abbiamo riscontrato è stato sicuramente quello relativo alla assoluta immediata repentina rivalutazione dei nuovi modelli e canali di distribuzione faccio riferimento all'e-commerce che stando agli ultimi dati Nielsen è letteralmente schizzato al 40% e con picchi fino al 200% faccio riferimento anche alle nuove dinamiche diciamo così distributive al food delivery e il caso di Glovo che tutti conoscono che sostanzialmente diciamo è un'azienda leader nel food delivery addirittura ha fatto più 300% con riferimento all'e-commerce un po' ed è quello che dicevo diciamo è una è una è un canale di vendita è una modalità di vendita che sì la conoscevamo però adesso è diventata indispensabile in buona sostanza sono stato personalmente attratto dal caso perché lo reputo interessante di Longino e Cardinal Longino e Cardinal è un SPA quotato in borsa nel 2018 il loro claim bello accattivante cibi rari e preziosi sostanzialmente loro fanno oreca loro distribuiscono cibi rari e preziosi agli chef stellati ad un certo punto con lockdown Cardinal Longino e Cardinal sostanzialmente è stata costretta ad una serrata immediata e quindi questo li ha portati lasciatemi dire un po' a reinventarsi per quanto banale possa sembrare dire che ci si reinventa con e-commerce ma è così perché per una società come quella che ha fatto soltanto oreca che ha fatto soltanto diciamo ristorazione ritrovarsi dall'oggi al domani a fare anche retail a fare dettaglio con l'e-commerce certamente è un atto di coraggio aggiungo poi se vogliamo il lato negativo di questa pandemia ricollegandomi alle valutazioni fatte dal dottor Andriani e certamente dal dottor Felicetti il lato negativo è quello per cui il settore agroalimentare direi quello primario principalmente si è riscoperto vulnerabile si è riscoperto vulnerabile perché sappiamo che soprattutto l'Italia a livello di approvvigionamento di materie prime non ha autosufficienza principalmente parlo del grano duro e questa mancanza di autosufficienza e quindi la conseguente dipendenza dai paesi esteri durante il lockdown si è sentito tantissimo si è sentito parecchio e ha determinato non poche preoccupazioni tant'è vero che c'è stato l'annuncio della chiusura da parte dell'Ucraina e della Russia delle quantitativi importanti di esportazioni 7 milioni di tonnellate per quanto riguarda la Russia e 2 per quanto riguarda l'Ucraina che ad un certo punto hanno preoccupato e quindi io quello che evidenzio appunto è l'occasione che quasi il lockdown ci dà cioè l'occasione per ripensare come anche ha detto l'avvocato Ponzo ripensare a questo a questo comparto importante trainante c'è poco da fare nel 2018 l'agroalimentare è stato il settore più trainante dell'economia italiana rispetto a ogni altro settore per cui non può rimanere un settore diciamo così ha ritratto un settore che un po' va a spinta bisogna strutturare dei cambiamenti importanti con l'ausilio certamente della tecnologia dell'innovazione e anche del miglioramento varietale su cui poi possiamo anche soffermarci successivamente grazie avvocato grazie anche di aver portato come esempio il caso di Longino in Cardinal che abbiamo appunto descritto e raccontato appunto sulle pagine di foodcommunity.it e mag ricordo ancora che c'è una Q&A section se ci sono appunto domande indicati per chi sono nello specifico e proveremo a rispondere vedo che già qualcuno ha scritto cerco di riassumere riassumere un po' più che una domanda è diciamo una considerazione che arriva da Stefano Barbieri dice appunto piccolo è bello ma in una situazione come questa il rischio è quello di scomparire per la scarsa dimensionalità come appunto abbiamo accennato all'inizio come aveva accennato anche l'avvocato Conso l'obiettivo potrebbe essere il concetto di filiera globale e in questo ambito va difesa e valorizzata la ricerca genetica e l'innovazione varietale so che poi magari lo stesso appunto avvocato acqua fredda magari ce ne parlerà ce ne raccenerà diciamo questo ricerca genetica e innovazione varietale va finanziata per creare condizioni di innovazione permanente e quindi di competitività mi sembra che i nostri anche relatori siano appunto d'accordo con questo intervento giusto? Cosa ne pensa ad esempio il dottor Andriani? L'attività della ricerca non deve fermarsi soprattutto non deve farlo adesso proprio perché ha il compito non solo di dare la garanzia al consumatore di dare sicurezza alimentare sicurezza di qualità di prodotto ma ancorché di dare sicurezza ai produttori in un momento in cui anche la quantità è sottoposta ad una isteria di domanda e quindi c'è bisogno di avere più certezze anche nella fase di pianificazione delle proprie attività di campagna credo però che la biodiversità è bella proprio perché ne porta come dire la caratteristica di ognuno di noi del saper fare noi come italiani dobbiamo proteggere il saper fare italiano dobbiamo dobbiamo farlo in un contesto globale ma dobbiamo farlo con le nostre forze con le nostre menti e sul nostro territorio per cui preferirei che la ricerca venga fatta in Italia e resti in Italia a supporto delle iniziative delle imprese italiane a proposito di ricerca e di filiera ci racconta che cosa ha fatto lei ecco sì anche noi siamo impegnati come in gran parte del nostro settore a cercare di unire quella che quella che la necessità tra qualità e quantità quindi per poter promettere al consumatore un prodotto migliore a delle condizioni migliori evidentemente stiamo cercando di farlo attraverso l'uso delle filiere agroalimentari abbiamo quest'anno appena concluso e a breve ci saranno i raccolti abbiamo concluso una filiera più grande di legumi in Italia con oltre 5.000 ettari di piantagioni di legumi con un unico capo filiera e ci ancingiamo a breve a poterlo fare anche sugli altri materi prime dell'Andriani che l'Andriani utilizza quindi mais riso grano saraceno addirittura abbiamo iniziato nel mese di febbraio eravamo in Etiopia per una filiera di TEF che è la zona più vocata appunto quella zona dell'Africa per cui l'obiettivo della nostra azienda è quella di poter soddisfare i fabbisogni di materia prima utilizzando esclusivamente prodotti di filiera per non confondere anche l'ascoltatore filiera non vuol dire fare fermarsi al contratto di coltivazione quindi andare a contrattualizzare con la parte agricola la disponibilità della materia prima fare filiera significa appunto unire quelle che sono le esigenze del consumatore con quella che è la capacità del mondo agricolo il ruolo della nostra azienda così come quella di tutti i processatori è quello di poterlo fare in maniera coordinata in maniera virtuosa in modo da esaltare le capacità appunto dei nostri prodotti di esprimersi al meglio una volta che il consumatore li sceglie ovvio che la parte scientifica è la parte più più importante di questa iniziativa vero è che molto spesso così come abbiamo fatto noi lo si fa in condivisione con la ricerca universitaria noi l'abbiamo fatto con uno spin-off dell'Università della Cattolica un spin-off Orta che ci segue appunto per quelle che sono le scelte agrotecniche quindi creano questi algoritmi agronomici che portano i giusti suggerimenti in campagna in maniera tale da permettere anche all'agricoltore di vedere migliorare la qualità della propria azienda concludo dicendo che bisogna fare questo cercando anche di dare uno sguardo sempre di più a quella che è la consapevolezza del consumo quindi produrre in maniera più sostenibile acquistare sul mercato in maniera più sostenibile portare sulla tavola degli italiani per primi e poi anche dell'estero prodotti più sostenibili Lei ha parlato di estero e di innovazione c'è giusto una domanda a riguardo quanto l'export e le nuove tecnologie possono aiutare l'agore alimentare in questa situazione Le nuove tecnologie vanno vanno suddivise per appunto per attività all'interno della filiera ci sono delle tecnologie innovative anche in ambito agronomico lo accennava prima Zanella il presidente Zanella e oggi è la tecnologia più importante a cui anche il mondo del processo sta guardando c'è la capacità di fare agricoltura di precisione e appunto supportata da una forte innovazione tecnologica poi ci sono la tecnologia di processo è ovvio che dobbiamo guardare anche ad un consumo che sta cambiando è cambiato in questi mesi seppur la farina è stato uno dei prodotti più consumati ma è pur vero che bisogna portare sulla tavola dei consumatori prodotti a valore aggiunto tecnologico quindi prodotti che al loro interno hanno un'adeguata dose di tecnologia e di innovazione per far questo chiaramente la nostra società cerca di cerca di investire anche in menti giovani più creative anche cercando di dare un'attenzione di apportare un'attenzione particolare anche a quelli che sono i risultati della ricerca e del mondo scientifico per cui un'azienda di processo di un prodotto tra l'altro abbastanza tradizionale come quello della pasta che però sempre più assume un ruolo importante anche nelle fasi di innovazione l'estero ci aspetta con entusiasmo durante le fiere di vedere esposti i nostri prodotti perché l'Italia il Presidente Felicetti lo potrà dire molto spesso viene freggiata e torna con dei premi internazionali anche in ambito di innovazione di prodotto anche molto importanti anche molto importanti speriamo di poterlo continuare a fare sono convinto che riusciremo a farlo assolutamente ha citato il Dottor Felicetti a cui io farei la domanda che ci arriva appunto dal pubblico da Michele Conti delle considerazioni sul decreto legge rilancio in ambito agroalimentare quali occasioni si sono perse? io credo io credo che ci siano nel mondo della nella filiera del grano duro perché altre filiere non le conosco molto bene però nella filiera del grano duro ci siano poche cose che nel decreto sono state previste ma la filiera del grano duro è anche una filiera che non ha risentito profondamente delle questioni riguardanti il lockdown direttamente o riguardanti le perdite perdite di volumi o altre cose o perdite di raccolto diciamo che il mondo del grano duro non è un mondo che ha un ingente bisogno di mano d'opera ed è un mondo che ha vissuto questo momento come un momento di riposo diciamo che fosse successa una chiusura fino a fine maggio giugno entrando nel momento del raccolto probabilmente avremmo avuto problemi ben diversi e affronteremo la tematica in maniera ben diversa devo dire che prima leggendo le domande si chiedeva quali potevano essere le problematiche riguardanti o come poteva aiutare gli standard qualitativi un aumento della conoscenza della qualità eccetera dei prodotti italiani all'estero delle made in Italia all'estero io per fare un esempio vorrei raccontare rapidamente che nel 1967 per cui qualche qualche anno fa qualche decennio fa esatto i nostri i nostri padri i nostri nonni pastai si sono messi assieme e hanno scritto la seconda legge di purezza al mondo la prima è del 1516 riguarda la birra tedesca la seconda riguarda la pasta italiana e dal 1967 la pasta si può fare in Italia solo con la semola di grano duro semola che è il risultato della macinazione a spigolo vivo del grano duro questo cosa vuol dire vuol dire che prima la pasta si poteva fare di qualsiasi cosa si volesse e si poteva chiamare pasta nel 1967 soltanto la pasta fatta con un prodotto fatto di grano duro ha sparigliato il mondo perché tutto il resto del mondo faceva la pasta di grano tenero faceva la pasta con delle tecnologie diverse noi abbiamo insegnato a fare la pasta al mondo abbiamo insegnato che la pasta riusciva a tenere la cottura un giorno ci siamo anche accorti che la pasta non teneva la cottura soltanto attraverso le proteine e l'indice glutinico del grano duro ma anche attraverso un corretto utilizzo della tecnologia tecnologia che dava la possibilità di avere più tenuta di cottura e di conseguenza più fruizione non soltanto in Italia ma a quei miliardi di popoli di cittadini al mondo che adorano la cucina italiana ecco tutto ciò insegna come il giusto abbinamento tra una scelta politica una scelta agronomica una scelta tecnologica possono davvero portare la cultura italiana ad essere internazionale ad essere fruibile in tutto il mondo la pasta da questo punto di vista credo che sia uno dei prodotti più venduti all'estero ha più del 56% di export e fa da locomotrice a quello che è il primo piatto all'italiana per cui oltre alla pasta quelli che sono tutti i condimenti i sughi l'olio d'oliva il formaggio da grattugiarci sopra insomma c'è un mondo che segue la pasta e noi siamo chiaramente molto coscienti e molto responsabili di questa che è una delle caratteristiche che riguarda la pasta in Italia e all'estero Elettra Gaspari che appunto ci sta seguendo chiede quale sia la visione dei panelist sulla guerra delle etichette fra Italia e Francia vuole commentare lei? Allora noi la vediamo come una sorta di protezionismo come ne abbiamo visti tanti negli ultimi decenni in giro per il mondo devo dire che l'etichettatura può essere vista in maniera diversa c'era l'etichettatura a semaforo del UK c'erano altre etichettature ci sono le etichettature che prevedono che il parmigiano reggiano dovesse essere considerato uno dei prodotti più devastanti dal punto di vista nutrizionale al mondo così come la pasta se si considerano i carboidrati zuccheri non semplici ma complessi come quelli del grano duro o della pasta non andavano più bene ci sarà tanto da lavorare a livello europeo e a livello comunitario per fare in modo che queste distorsioni dal punto di vista normativo tra le varie nazioni vengano omogeneizzate cercando di difendere anche in maniera coerente e riguardo all'utilizzo che se ne fa i prodotti italiani perché insomma non siamo noi a dirlo ma sono più o meno 50 anni che la dieta mediterranea viene considerata una delle migliori al mondo e da qualche anno è diventata anche patrimonio dell'umanità per cui non è che dobbiamo dirlo grazie 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 dottor Felicetti io passerei al dottor Zanella e vorrei ritornare un pochino a quella che è la filiera appunto vitivinicola lei appunto mi diceva quando ci siamo sentiti che purtroppo per il vino il trimestre diciamo un pochino più negativo sarà comunque questo no quello il secondo trimestre mi commenta questa cosa mi dice quali saranno poi le vostre strategie per 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 riprendere in mano il settore e ritornare a quelli che sono i primati di produzione valore sì come già dicevo prima la nostra azienda e tutte le aziende che fanno vini di un certo tipo privilegiano il canale dell'oreca e quindi hanno subito e subiranno in maniera consistente e pesante il lockdown perché di fatto si sono trovati 60 50 per cento dei clienti chiusi non che si arrabbattavano qualcuno ha iniziato a fare asporto e delivery ma sono cose estremamente marginali e chi era in distribuzione nei canali tradizionali non ha risentito molto c'è stata una crescita come mi è stato detto da chi mi ha preceduto nell'e-commerce noi personalmente abbiamo raddoppiato ma raddoppiare il 2% non risolve certi problemi e quindi i canali innovativi non c'è una strategia perché noi dobbiamo solo aspettare senza fare quelle mosse di cui accennavo prima sbagliate innovandosi cambiando canali che possono sgretolare delle consuetudini che è bene non sgretolare che è bene conservare perché sono quelle che hanno determinato il successo di molti brand e cambiare queste logiche a volte è pericoloso ho visto fare da alcune aziende in questi mesi delle cose secondo me abbastanza approssimative perché penso che la coerenza alla fine paghi sempre soprattutto se si hanno dei valori importanti da rispettare quindi dobbiamo avere pazienza aspettare che l'Oreca riparta secondo me ci vogliono come minimo altri 4 mesi nel senso che deve passare tutto giugno luglio agosto e solamente a settembre ottobre credo tornerà una quasi normalità nel settore dell'Oreca tenendo conto che avremo una carenza di turismo internazionale importante quindi dobbiamo aprire paricadute stringere la cinghia e fare tutto quello che c'è da fare in termini commerciali per essere presenti ma ripeto con coerenza sul lato produttivo anche qui non si può derogare quindi bisogna andare avanti con la stessa mentalità mi fa piacere riprendere quanto detto precedentemente dal dottore Andriani sul fatto della ricerca e della sperimentazione dove nel nostro settore ripeto parlo solo ed esclusivamente per il nostro settore sono estremamente cauto la ricerca e l'innovazione sulla genetica anzi sono assolutamente non dico contrario ma la vedo con le pinze dove soprattutto le università e chi deve fare queste cose le deve sperimentare a lungo prima di dare il semaforo verde mentre sono assolutamente favorevole a un'agricoltura di precisione che già stiamo facendo sia a livello meteo sia soprattutto che siamo un'azienda che si è certificata in biologico su una estensione piuttosto importante dove sono oltre 250 ettari in 10 comuni diversi quindi gestire 250 ettari di viticoltura di precisione in bio certificato non è uno scherzo e ci ha portato a innovare vi faccio un esempio di innovazione che penso sia l'unica al mondo a tal punto da dover lavare l'uva prima del processo di spremitura perché i residui di rame che c'erano sulle bucce se non pioveva erano un fattore negativo in termini aromatici durante la fermentazione per cui paradossalmente il bio ci ha portato dei problemi nel processo produttivo perché prima i prodotti chimici che andavano sulla foglia venivano fotosentitizzati e non c'erano i residui che un prodotto naturale invece dà sul grappolo per cui c'è tutto un discorso di bio per evidentemente la sostenibilità e l'ambiente e tutto quello che è facilmente comprensibile per cui il futuro non può che essere lì ma dall'altra parte nella fase di processo bisogna innovare ed ecco perché sono assolutamente d'accordo con il dottor Andriani a innovare e sperimentare con il supporto evidentemente di chi queste cose le fa meglio di un'azienda tutti i processi affinché affinare e mantenere la qualità del prodotto sempre in crescita perché abbiamo un consumatore anche nel nostro settore esigente che deve essere fra virgolette viziato al quale bisogna tutti gli anni dare qualcosa di meglio mi fa piacere che ha parlato della spa dell'uva di cui abbiamo parlato nell'articolo eh sì dopo l'intervista sono preparata spero presto tra l'altro di venirla a trovare e mi piaceva poi raccontare anche quello che mi ha detto sulle bollicine e anche sul consumo delle bollicine che ovviamente sono almeno finora sempre state comunque ritenute adatte per quelle che sono diciamo le grandi occasioni cambierà qualche cosa? Allora anche qua bisogna fare delle differenze territoriali dimensionali perché la generalizzazione del termine che lei ha usato come sa al quale sono allergico però che ha inventato lei sì purtroppo sì ho questo primato ma così come l'ho inventato ne ho preso le distanze perché abbiamo lo dico per le altre persone che ci ascoltano Franciacorta ha avuto la capacità a livello comunitario di equipararsi a un'altra denominazione francese a voi nota che ha solo 250 anni di storia più della nostra di cui non facciamo il nome ovviamente per la quale c'è il divieto di riportare in etichetta il fatto che sia un venus e la stessa cosa ha ottenuto il Franciacorta nel 1995 per cui in termini legali per la legge europea non è uno spumante e non essendo uno spumante per legge europea avevamo difficoltà a raccontare nel 95 cos'era questa cosa e per cui abbiamo inventato ahimè il termine bollicine che è diventato un termine modaiolo abbondantemente usato in questi ultimi termini a discapito delle denominazioni per tutti i vini l'importante è più la denominazione che non la metodologia produttiva e quindi è per questo che bollicine mi irrita scusatemi lo dico in termini evidentemente comici io l'ho fatto apposta per provocarla no ma pur avendolo inventato detto ciò in una denominazione come la Franciacorta eravamo riusciti e siamo riusciti a sdoganare il fatto che l'80% dei consumi fossero fatte negli ultimi due mesi come avviene per la denominazione di cui abbiamo parlato prima estera e per i prodotti tipo l'asti per farci capire che sono bottiglie celebrative e in Franciacorta eravamo riusciti a portare i consumi dove negli ultimi due mesi dell'anno si faceva solo il 30% e non l'80% quindi a destagionalizzare il consumo perché è diventato un prodotto da consumo quasi ricorrente e non più quanto è vero secondo me è il fatto che comunque in un periodo come questo c'è meno voglia quando si apre una bottiglia di aprire una bottiglia di quella tipologia rispetto a una di vino bianco e vino rosso perché quella bottiglia è comunque usata in maniera conviviale di gioia di convivialità e non certo dentro i muri di casa con un consumo direi di consuetudine quindi sicuramente questa tipologia di vino credo non avrà non gioverà in questo periodo di covid di incrementi nemmeno di perdite ma nemmeno di incrementi penso che siano più destinati ai vini tradizionali perfetto grazie grazie a voi io concluderei questo secondo giro di domande con l'avvocato acqua fredda e vorrei sapere un po' quali sono le strategie prima abbiamo parlato di figliera eccetera a lei la parola grazie beh allora le strategie sono strategie che ormai sono ben segnate è stato pubblicato è stata pubblicata ieri una comunicazione della commissione UE proprio sul farm to fork strategy quindi sostanzialmente una strategia a livello comunitario che il mondo dell'agroalimentare UE deve seguire per riuscire a perseguire quelli che sono in sostanza gli obiettivi del prossimo futuro io direi anche obiettivi immediati e gli obiettivi come abbiamo detto sono quelli di almeno a livello Italia ma il discorso sicuramente generalizzabile di incrementare la produzione locale però tenendo bene a mente la biodiversità e cercando di garantire anche una produzione sostenibile certo mettere insieme questi tre ingredienti non è facile però delle mie guida esistono ci sono questo obiettivo indubbiamente si riesce a perseguire attraverso diciamo l'implementazione di processi innovativi all'interno della figliera da un punto di vista diciamo di produzione primaria attiro l'attenzione perché ho una mia personale sensibilità sull'importanza del miglioramento varietale che non è necessariamente lo preciso per il dottor Zanella un miglioramento genetico e quindi cioè una nuova varietà vegetale non è necessariamente io direi non è mai un organismo geneticamente modificato le nuove varietà vegetali così come sono disciplinate a livello normativo italiano ma anche europeo in realtà possono dare grandi chance di crescita anche per i prodotti tradizionali in buona sostanza perché un prodotto tradizionale doppio GP naturalmente durante diciamo così la sua vita normale potrebbe anche subire delle variazioni mutazioni di natura genetica a livello naturale quindi al fine di mantenere diciamo quei caratteri costanti nel tempo e per far sì che quel prodotto possa continuare a fregiarsi anche del marchio dell'indicazione geografica comunitaria che si adotta o i GP quindi il miglioramento varietale va proprio in questo senso insieme al miglioramento varietale che sicuramente diciamo è l'esempio più vivo di innovazione diciamo nel mondo dell'agribusiness soprattutto nel mondo della produzione agricola primaria non possiamo dimenticare diciamo anche l'innovazione digitale non possiamo minimamente trascurare l'importanza dell'innovazione digitale posto che il digitale adesso sta avendo diciamo un'importanza sta riscuotendo un'importanza notevole digitale che dal mio nostro punto di vista può essere davvero lo strumento utile per implementare ai fini consumeristici la garanzia sulla tracciabilità della produzione agroalimentare sappiamo che le produzioni agroalimentari sulla base diciamo della normativa di base agroalimentare regolamento 178 devono essere tutte tracciate ma fino ad ora diciamo la tracciabilità è stata una tracciabilità certo anche certificata ma nelle mani del produttore quindi completamente nelle mani del produttore il digitale ci può senz'altro aiutare a diciamo rendere il prodotto agroalimentare diciamo più garantito a favore del consumatore finale faccio riferimento sicuramente alla blockchain che è l'infrastruttura diciamo tecnologica digitale informatica che ormai sta avendo sempre più successo e che nell'ambito del food sta trovando diciamo la sua dimensione naturale se posso dire perché proprio attraverso diciamo la dinamica l'infrastruttura blockchain si riesce a rendere il dato che viene inserito nel processo i dati le informazioni che vengono inserite all'interno del processo diciamo produttivo di filiera a renderle immodificabili a renderle inviolabili se a questo ci aggiungiamo anche l'avvento diciamo delle tecnologie IoT quindi Internet of Things soprattutto a livello di produzione primaria quindi se vogliamo come diceva anche l'avvocato Buonzo i sensori rilevatori di temperatura all'interno delle cantine o se vogliamo anche i sensori di georeferenzazione sono tutte informazioni che come dire possono anche avere il carattere di maggiore oggettività rispetto alle informazioni che fino a ieri venivano diciamo caricate direttamente dal produttore o comunque sia dal capo filiera un'ultima annotazione per anche se vogliamo ricollegarmi alla domanda fatta dall'ascoltatrice che ho trovato interessante sulla questione delle etichette interessante e molto attuale in realtà questo lockdown e se vogliamo il lato negativo della globalizzazione sta facendo accrescere nei consumatori senz'altro una maggiore attenzione e consapevolezza verso la trasparenza proprio della produzione agroalimentare quindi questa maggiore trasparenza maggiore diciamo sensibilità verso proprio la sicurezza alimentare del prodotto a mio avviso qualcun altro l'ha detto porterà anche a rivalutare il ruolo dell'etichetta il ruolo proprio dell'etichettatura in quanto tale non solo come soltanto banalmente luogo fisico in cui l'imprenditore ci mette in base ai regolamenti comunitari le informazioni obbligatorie e volontarie ma anche per far sì che l'etichetta diventi sempre più un'etichetta intelligente faccio riferimento anche al QR code che sostanzialmente è adesso questa trovata diciamo digitale attraverso cui con l'interazione di uno smartphone il cliente addirittura in fase d'acquisto riesce a capire sostanzialmente tutto il percorso produttivo di filiera certo bisogna anche controllare l'utilizzo di queste tecnologie digitali perché purtroppo ahimè da quello che ci consta qualcuno le usa soltanto come trovata di marketing alla fine con lo smartphone vado a focalizzare sul QR code e trovo informazioni molto banali che non tracciano minimamente il prodotto quindi come dire le linee direttrici su cui ci si deve muovere per garantire un cambiamento strutturale a tutta l'artigliere alimentare basando tutto sulla ricerca sull'innovazione anche sulla interazione della ricerca pubblica e privata questo è importante secondo me ci pone davanti una aspettativa importante di crescita e ci pone davanti degli obiettivi fondamentali improrogabili che dobbiamo senz'altro perseguire grazie grazie avvocato acqua fredda io le farei anche questa domanda che appunto ci arriva dai nostri ascoltatori riguardo alla produzione internazionale che spesso ha prezzi inferiori ma dice appunto Francesco serio il prezzo più basso non può essere l'unico parametro preso in considerazione non c'è dubbio l'ho appena detto si sta incrementando questa sensibilità da parte dei consumatori verso un prodotto di qualità questo porta appunto a confermare quello che dicevo poc'anzi e cioè un cambio di paradigma se vogliamo l'importanza anche delle filiere alimentari filiere che alla luce di tutto quello che si osserva diventeranno sempre cioè filiere sempre più corte in realtà quindi concentrarsi su una produzione locale concentrarsi sulla produzione diciamo che può partire da prodotti primari di cui o per i quali l'Italia il nostro paese sia sempre più autosufficiente per poter garantire davvero il Made in Italy cioè per far sì che come dire l'indicazione Made in Italy si riempia sempre di più di contenuto in maniera tale che il consumatore finale leggendo Made in Italy abbia appunto la garanzia assoluta di un prodotto tracciato controllato e qualitativamente elevato in modo tale da giustificare anche l'incremento di prezzo rispetto diciamo a un prodotto similare di matrice estera che naturalmente non ha quel valore aggiunto tipico del prodotto italiano e che altrettanto evidentemente ha un prezzo inferiore certo quali sono le filiere italiane più dipendenti dall'import di materie prime che possono essere più colpite da questa fase di ristrutturazione delle filiere globali la filiera più vulnerabile è sicuramente la filiera del grano stando ai dati ufficiali se consideriamo che l'industria pastaglia italiana ha un fabbisogno annuo di grano di 6 milioni di tonnellate quando in realtà l'Italia ne produce 4 milioni beh il gap è un gap che in realtà mi spiega spiega tante cose questo è un tema molto dibattuto su cui in realtà si può parlare tantissimo anche con riferimento diciamo alle ultime novità normative l'ultimissimo regolamento 775 relativo proprio all'origine della della materia prima e che sta facendo molto discutere e che se vogliamo non ha previsto la obbligatorietà di indicare in etichetta l'origine della materia prima con ne stavo discutendo questo pomeriggio con il dottore Andriani con l'effetto no di come dire dare spazio a iniziative anche di marketing ho visto una pubblicità che è interessante ma che appunto la dice lunga di De Cecco che ha un fondo di verità però si spiega proprio per quello che stavo dicendo De Cecco dice la buona pasta non si fa soltanto con un grano con una varietà di grano quindi per come dire legittimare il fatto che l'Italia o l'industria pastaria italiana ha necessità di importare quindi non dobbiamo come dire trincerarci dietro le difficoltà dobbiamo affrontare le difficoltà capire che l'Italia può fare tantissimo voglio dire ha una cultura agroalimentare non indifferente abbiamo gli strumenti tecnologici abbiamo la scienza come dire anche dalla nostra parte ecco il miglioramento varietale le nuove varietà vegetali servono proprio per incrementare la produttività diciamo così di una produzione agroalimentare anche considerando diciamo così risorse che più passa il tempo e più sono risorse diciamo che scarseggiano come per esempio il suolo in buona sostanza quindi con la ricerca varietale si riesce o si riuscirebbe ad andare incontro a queste esigenze leggevo appunto di una ricerca fatta dalla Cina dove ovviamente il riso si mangia come il pane hanno brevettato perché le nuove varietà vegetali come dire sono brevettabili una nuova varietà di riso che addirittura ha una produzione di due volte superiore alla produzione diciamo così normale di qualunque altra varietà vegetale di qualunque altra varietà di riso quindi questo proprio per andare incontro alle prossime esigenze ai prossimi obiettivi 2050 ecco l'agenda Green Deal europea nel 2050 si aspetta un incremento di popolazione ci sarà anche un incremento di più 70% di cibo a livello mondiale bisogna far fronte in qualche maniera la ricerca il miglioramento varietale può darci una grossa mano in questo senso visto che abbiamo parlato di pasta chiederei un commento anche al dottor Felicetti allora la filiera del granoduro in Italia è una filiera in deficit strutturale se pensiamo che all'inizio del secolo scorso prima della rivoluzione russa le importazioni italiane erano del 70% dall'estero perché chiaramente la disorganizzazione del mondo agricolo in Italia era terribile e è vero che l'aspetto delle scelte varietali già allora aveva spinto un un senatore che è oggi famosissimo il senatore Cappelli a affidare a un genetista che si chiamava Nazareno Strampelli il compito di trovare un grano duro da incroci genetici tra un tra una genetica del Maghreb e una genetica italiana che era Saragolla per riuscire ad avere un grano che allettasse meno cioè si piegasse meno sul suo stelo e che desse delle rese sufficientemente buone per poter migliorare la resa economica e agraria del territorio nazionale soprattutto del sud Italia e questo significa che queste ricerche le stiamo facendo da secoli in realtà però il problema grosso dei pastifici italiani oggi è che stiamo perdendo il focus sulla situazione il grano duro italiano è buono ma non è tutto buonissimo e non è tutto uguale di stagione in stagione mentre lo spaghetto deve cucinare dieci minuti punto tutto l'anno tutti gli anni quindi la necessità del pastaio è quella di prendere la cosa meno omogenea del mondo farla cuacervare dai mulini sulla base delle proprie ricette e fare una pasta che sia il meno oscillante mentre nel vino di alta qualità le oscillazioni di stagione in stagione sono considerate delle caratteristiche anche qualitative non solo tollerate ma valutate in maniera molto positive nella pasta perdere un minuto di cottura o guadagnare un minuto di cottura tende a non essere considerata una cosa di grande valore per questo normalmente la pasta viene fatta con delle miscele che da aree geografiche diverse portano genetiche diverse con proteine diverse indici di glutine diverse per fare un prodotto che ogni pastificio sceglie di fare come vuole per il suo cliente e in questo caso si usano non soltanto per deficit di volumi ma anche per deficit qualitativo della materia prima che arriva dall'estero ora ci sono due maniere per migliorare la qualità dell'agricoltura italiana provvederne al suo miglioramento qualitativo con impegno reciproco o denigrare l'agricoltura straniera con l'effetto boomerang di denigrare i prodotti che vengono fatti in Italia con quelle materie prime perché qui poi dobbiamo cominciare a parlare è vero che la 775 ha creato delle aree grigie incredibili a tal punto che pur di non mettere sul fronte della confezione che quel grano arriva dal Canada dopo 5 anni di bombardamento criminale contro il grano canadese da parte di sappiamo chi la gente toglie toglie le bandiere italiane toglie qualsiasi tipo di indicazione di quello che di dove è stato fatto questo prodotto a tal punto che un prodotto degnamente e a tutti gli effetti made in Italy può essere confuso con un prodotto fatto in qualsiasi altra parte del mondo proprio perché noi non siamo stati capaci di difendere la nostra la nostra produzione perché non difendendo la produzione industriale non stiamo difendendo nemmeno la produzione agricola e questa è una cosa che purtroppo ci è stata imposta da associazioni di categoria alle quali non abbiamo saputo rispondere anche perché la loro potenza era troppo forte per tutti a me spiace dirlo ma abbiamo perso abbiamo perso grazie dottor Felicetti io chiedo ai relatori se c'è qualcuno che vuole aggiungere comunque qualcosa abbiamo penso risposto a tutte le domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori che ringrazio di essere rimasti fino a questo punto dottor Zanella vuole aggiungere qualche cosa no direi che ci siamo se non ci sono domande specifiche non ci sono volevo fare una provocazione a Felicetti che conosco non personalmente ma per fama e per utilizzatore ma fare una pasta ogni anno con un clou diverso che ha tempi di cottura diversi è follia pura? domanda molto interessante a dire la verità è quello che a dire la verità è quello che facciamo noi tutti gli anni con con una delle nostre linee di produzione quella di più alta gamma abbiamo scelto di utilizzare delle specie monovarietali e di come posso dire e di accettare che queste specie monovarietali varino le loro caratteristiche qualitative di anno in anno adesso non siamo ancora al millesimo ok anche se un mio collega visionario che era Carlo Latini qualche anno fa aveva iniziato a fare questo tipo di lavoro però noi non ci siamo non ci siamo ancora al millesimo ma devo dire che l'apprezzamento di una fascia di mercato elevato ed educato è sicuramente orientato da quella parte però non possiamo immaginare che il mercato del consumo quotidiano possa ancora oggi apprezzare queste variazioni di cottura che altri come nel mondo del vino ripeto possono invece considerare delle eccezionali variabili anche perché e finisco proprio sulle difficoltà della produzione di anno in anno e sulla capacità di interpretarle a livello tecnologico e con la competenza che i pastai come i vignaioli hanno e gli enologi hanno si possono raggiungere veramente degli grandi risultati Dottor Zanella è soddisfatto della risposta? Molto grazie Francesca se posso aggiungere l'esempio questa discussione sta portando all'attenzione quello che è la vera sfida del futuro dei prodotti cioè cercare di comunicare attraverso tecniche di food trust quindi di unire una comunicazione trasparente al consumatore elementi non solo quantitativi quindi uscire da un modello ISO uscire da un modello preciso che traccia tutta l'attività della filiera solamente attraverso l'utilizzo dei numeri è la vera sfida della filiera cioè la vera sfida di tutta l'intera filiera ed è per questo che prima l'avvocato Acqua Fredda parlava di blockchain ci sono sistemi di food trust di value chain vengono chiamati quindi ciò che bisogna iniziare a comunicare la qualità dei prodotti all'interno di ogni singolo passaggio quindi il saper fare oltre che quanto si fa e chiaramente da dove si fa e dobbiamo cogliere dobbiamo essere bravi a cogliere l'occasione senza senza ulteriori perdite di tempo perché ormai di tempo ce n'è poco e dobbiamo farlo consapevolmente sapendo che dobbiamo far emergere effettivamente la qualità del saper fare italiano prima ancora che di quanto noi possiamo fare il nostro ruolo è un ruolo marginale all'interno del panorama della produzione dei prodotti ce lo sono detti dall'inizio di questa discussione ma quello che facciamo crediamo di farlo meglio di tutti gli altri anche i nostri agricoltori sono più bravi di altri agricoltori questo lo dobbiamo fare alle merce ottimo io chiederei all'avvocato se vuole aggiungere qualche cosa una conclusione o un commento a questo nostro webinar che sta per concludersi io innanzitutto ho trovato molto interessante la discussione un po' di cose naturalmente le sapevo altre le ho apprese molto molto interessante la conclusione sì c'è forse una conclusione che si può fare di carattere un po' filosofico cioè noi siamo abituati a considerare il mondo dell'industria separato da quello dell'agricoltura c'è questa ripartizione c'è sempre questa immagine dell'agricoltura e anche un po' dell'agri del mondo agricolo i prodotti agricoli che derivano dall'agricoltura come una ripartizione quasi un po' discriminatoria insomma da una parte c'è la scienza e la tecnologia dall'altra c'è questo mondo antico che si va un po' nelle nostre immagini di molte persone ancora oggi che è svalutato sostanzialmente invece quello che viene fuori da quello che sappiamo noi ma quello che forse dovrebbe essere comunicato un pochino meglio anche delle istituzioni è che questo mondo questo che noi chiamiamo agribusiness ma questa espressione un po' brutta francamente questo mondo dell'agricoltura e dei prodotti dell'agricoltura appunto dal pane al vino a tutto il resto è un mondo che oggi è intriso di tecnologie è un'industria è un'industria che ha delle regole particolari e al suo interno anche si comporta in maniera diversa anche viene impattata in maniera diversa li trovo molto interessante come diceva il presidente Zanella sull'impatto diverso che ha avuto su vino per esempio all'interno della stessa mondo del vino il lockdown si è comportato in maniera diversa perché alcuni vini lo trovo molto affascinanti alcuni vini sono stati bevuti più di altri perché le bollicine sono la felicità e quindi la felicità in un momento di tristezza e di depressione non si bevono le bollicine noi ne abbiamo bevute da anche presidente proprio di cade il bosco perché io sono un fan un suo fan quindi un fan del prodotto perché il prodotto era religioso quindi noi ci siamo bevuti da anche bollicine ma è vero che non c'erano particolari un gosh noi siamo molto privilegiati quindi è chiaro che insomma era un lockdown dolce parlando seriamente però per esempio quello che diceva il presidente Zanenda sull'impatto devastante che questa crisi ha avuto sul settore della ristorazione e la risposta veramente anch'io trovo letargica e francamente del tutto insoddisfacente che c'è stato da parte del governo che ha comunicato e delle regioni che hanno comunicato all'ultimo momento queste persone questo è una profonda ignoranza questa dimostra una profonda ignoranza da parte anche francamente a livello politico della delicatezza di questo equilibrio di questo ecosistema che è fatto di tante componenti molte delle quali tradizionali cioè attenzione la difficoltà di questo di questo gioco è che esiste la tecnologia fondamentale è un'industria la tecnologia può essere una tecnologia buona può essere una tecnologia invasiva e proporre anche dei modelli sbagliati come diceva Presenza Nella ma è fondamentale è però un sistema un ecosistema molto molto delicato perché noi non vogliamo dobbiamo combinare la industrializzazione e l'ingresso della tecnologia con il mantenimento di infrastrutture molto fragili che sono il nostro patrimonio culturale che sono i nostri appunto i nostri grandi la nostra grande tradizione gastronomica che rischia di essere impattata molto negativamente da questa da queste da queste crisi che sono oggi c'è il coronavirus domani ci saranno altre cose noi abbiamo un ecosistema meraviglioso di piccole imprese anche artigiane e appunto ristorazione vino alimentazione alimenti di ogni tipo che deve convivere con questa reindustrializzazione con questo impatto della tecnologia e bisogna farlo saperlo fare senza danneggiare questa infrastruttura questo richiede anche delle politiche fiscali per esempio che siano intelligenti io accennavo prima il problema del lavoro la carenza del lavoro so che un'impresa proprio del vino in Veneto ha addirittura noleggiato un aereo privato per fare del mio dei lavoranti ora ci sono tante cose che si dovrebbero fare pratiche che si dovrebbero fare e anche sul terreno dell'infrastruttura giuridica che è un tutt'uno perché noi quando parliamo di infrastruttura giuridica oggi in normazione quando parliamo di proprietà intellettuali di diritto del lavoro parliamo dell'infrastruttura dell'economia 4.0 e questo quindi non si può tanto distinguere non si possono fare troppe distinzioni cioè bisogna lavorare insieme bisogna fare la parola tavolo orribile come espressione ma bisogna davvero fare uno sforzo di gruppo insomma di collo collettivo di riflessione collettiva su quali sono le strategie per conciliare e orientare questo ingresso ingresso di questa tecnologia che a volte ha anche dei lati negativi perché attenzione ha anche dei lati negativi c'è stata un'enorme per esempio valorizzazione dell'e-commerce anche esagerata quindi che ha anche dei lati negativi però con la quale dobbiamo convivere con un tessuto imprenditoriale e di vita sinceramente in qualità della vita italiana che è eccezionale ma che è fatto anche di piccole realtà che vanno solo a guardare quindi questa è una conclusione questa potrebbe essere questo seminario virtuale uno dei punti di partenza per parlare seriamente non in maniera futuristica di tutto questa cosa perché gli immigrati per esempio certo si può avere una visione ideologica io personalmente non ho una visione ideologica dell'immigrazione ma servono ma serve un immigrato che serve un lavoratore agricolo intelligente adesso io non conosco bene la realtà del vino ma la realtà per esempio alcune realtà agricole le conosco oggi quando si parla di utilizzazione di tecnologia nella coltivazione agricola ma c'è bisogno che il lavoratore agricolo sia in grado di utilizzare queste tecnologie quindi lo schiavo perché il modello del lavoratore agricolo in Italia specialmente nel sud Italia è proprio servile è un modello servile si si va è proprio schiavino e questa cosa qui non va bene bisogna risolverla quindi l'immigrazione bisogna gestirla certo in maniera intelligente si può essere di destra o di sinistra ma bisogna fare un ragionamento pratico che parte da questo presupposto che ci servono queste persone devono essere trattate in maniera umana anche e soprattutto perché ci servono delle persone intelligenti che lavorano quindi questo è un po' uno dei fall out noi non siamo lavoristi ma bisognerebbe studiare per esempio dei contratti di lavoro di tipo diverso quindi questo è un nuovo mondo che potrebbe aprirsi a Italia oppure c'è un declino declino perché gli altri paesi queste cose le stanno facendo gli altri paesi lavorano come sistema la Francia è fortissima ha un sistema ha un'infrastruttura è fortissima di difesa quindi noi siamo come diceva il presidente Svevicetti e il dottor Svevicetti siamo un po' effettivamente deboli in queste cose perché non proteggiamo abbastanza i nostri interessi dobbiamo anche cominciare a proteggere i nostri interessi perché questa è l'altra questione stiamo entrando in un'epoca di post globalizzazione dove ci sarà cooperazione tra sistemi economici ma c'è molta competizione anche all'interno dell'Europa che rimarrà ma ci sarà molta competizione competizione molto dura e quindi dobbiamo difenderci questa è la mia conclusione forse troppo politica ma chiedo scusa di questo grazie grazie Avvocato Conso prima di dare l'ultima parola a Aldo Scaringella che vedo appunto collegato con noi io ringrazio i relatori che hanno che hanno partecipato a questo webinar a questa discussione interessante ringrazio anche a chi è rimasto appunto fino a questo momento ad ascoltarci quindi sempre in ordine alfabetico ringrazio l'Avvocato Vincenzo Acquafredda il Dottor Michele Andriani l'Avvocato Gabriele Conso il Dottor Riccardo Filicetti e il Dottor Maurizio Zanella e io ringrazio Francesco Corradi ovviamente ringrazio Trevisano Conso tutti gli ospiti tutti gli ascoltatori ho accolto anche io dei bellissimi spunti ho adorato quello sulle bollicine di cui anch'io ho approfittato pesantemente durante questo lockdown e sovrendo la cantina va bene così possiamo riacquistare altro riempirci di ca del bosco quindi grazie mille a tutti grazie allo studio Trevisano Inconso e buona serata grazie Francesca buona serata grazie a voi grazie a tutti